Paolo Perazzoli, candidato sindaco del Partito Democratico, oggi questo dibattito in la aula con un consigliare per specificare i programmi e idee. Sì, io ho accettato di ricandidarmi perché c'è stata una richiesta molto forte dei cittadini che hanno sottoscritto una petizione partendo dal convincimento che San Betto sia in grave difficoltà, è una città ferma e quindi il mio impegno principale sarà quello di far ripartire questa città, ridare la voglia di fare impresa, di creare ricchezza, lavoro e anche di essere più solidali perché ritengo che la spesa per le politiche sociali sia un investimento per il benessere della comunità. La prima riunione che farò se vengo eletto sindaco sarà quella di organizzare una riunione per riaprire la piscina per l'estate successiva. Nei primi sei mesi porteremo all'approvazione il progetto per la variante collinare, insomma riapriremo una fase nuova di partecipazione. Con una squadra completamente nuova ridaremo entusiasmo a questa città per credere nel futuro perché abbiamo alle spalle un passato glorioso perché il futuro viene da lontano.